Il comitato contro le antenne sulle torricelle si è simbolicamente appostato ieri davanti al cancello della seconda torretta, la Massimiliana, dopo la scadenza dei 240 giorni che il demanio aveva concesso ai proprietari dell'antenne per ripristinare lo stato dei luoghi, oggetti di vincoli da parte della sovrintendenza ai beni ambientali. I cittadini erano stati infatti avvisati il giorno precedente della nuova ordinanza sospensiva, che rinvia la decisione del Tribunale il prossimo 20 marzo. L'associazione, costituitasi all'inizio del 2017, è presente anche sui social da cui aggiorna i propri sostenitori sulla complessa vicenda. Noi sapevamo che il demanio, a seguito della conferenza di servizio, che si è concluso con esito negativo da parte degli enti coinvolti, per cui sia la Regione che il Comune che la sovrintendenza hanno detto tassativamente che tutti i tralicci devono essere rimossi. Poi il demanio aveva fissato la data di ieri del 6 di marzo per fare un sopralluogo e verificare ovviamente se poi le antenne erano state rimosse, perché comunque il demanio poi aveva dato 240 giorni di tempo per rimuovere il tutto e sono scaduti a fine febbraio. L'ultimo sviluppo, un anno dalla Costituzione del Comitato, risale a marzo 2018, quando il demanio ha ordinato lo sgombero entro 60 giorni alle emittenti. I proprietari dell'antene hanno chiesto la possibilità di una senatoria, costringendo l'amministrazione ad aprire una conferenza di servizi tra Comune, Regione e Sovrintendenza stessa. L'esito del tavolo di lavoro è stato il veto assoluto di edificabilità su tutta l'area. A luglio l'ordine di sgombero è tornato esecutivo e il demanio ha concesso per l'appunto altri 240 giorni per l'adempimento. Il termine è scaduto ora lo scorso febbraio. Nel frattempo, le emittenti hanno chiesto una nuova sospensiva, visto il termine ravvicinato con l'emissione della sentenza.